salve segno del capricorno benvenuto bentrovata ben arrivate siete nel mio canale sono zaire sui tarocchi e voglio fare l'oroscopo per il 2023 che sta per entrare nelle nostre vite e quindi andiamo a vedere adesso il segno del capricorno ovviamente questo è un periodo che ci saranno una marea di sese sull'oroscopo io il mio lo voglio fare in maniera veloce smart è incisiva quindi ho scelto le tarocchi del romantici per vedere cosa succederà in amore avevo scelto i tarocchi classici per vedere il lavoro e le sibille di nostra damus per vedere la fortuna che cosa vi porterà questo 2023 allora ragazze io inizio immediatamente perché come detto voglio fare un video smart quindi inizio con le notizie in amore ricordo segno del capricorno ascendente luna o appunto venere nel segno potete vedere allora andiamo subito a vedere per tutti coloro che hanno appunto nel loro segno il capricorno o nell'ora ascendente o in marzo o avve in venere vediamo cosa porterà di buono il 2023 al segno del capricorno in amore vediamo cosa porterà in amore al capricorno il 2023 vediamo se ci sarà un nuovo incontro un ritorno un nuovo amore oppure un consolidamento di quello che già state vivendo in questo momento comunque andiamo a vedere che cosa ci sarà per il segno del capricorno nel 2023 allora prendiamo le nostre cinque carte allora qui venite fuori in questo periodo con una situazione di chiusura con una persona molto autoritaria un imperatore dove ci sono stati dei conflitti dove si è vissuto un amore però con i cuori agitati c'è un amore la sceppiglia un amore che sembra chiuso quindi questa è la situazione diciamo che venite fuori voi nel vostro passato recente quindi qua ci sono rimpianti ci sono conflitti ovviamente per una storia comunque finita che sembrerebbe quasi come se ancora avete dei residui ancora perché cinque di coppe sapete e sono un po di rimpianti un po di ancora come se non si sente proprio di aver avuto una vera e propria chiusura abbiamo un due di coppe e quindi c'era un'affinità anche se insomma c'era un amore a però lo vedo un amore agitato un amore con tanti conflitti con una persona un po prepotente e una persona che comunque va continuamente doveva essere perdonata perché evidentemente aveva un modo di fare che non non consentiva una relazione normale quindi qua se avete capito questa cosa e avete pensato con il mondo di chiudere adesso vediamo un po quindi questo ci hanno dato una piccola così come dire un riassunto della vostra situazione vediamo il 2023 che cosa vi porterà beh qua vedo un bel re di bastoni vedo un incontro con un re di bastoni quindi una persona comunque di controllo un gran lavoratore un passionale che potrebbe anche lui all'inizio darvi un amore un po incostante perché abbiamo anche la ruota però questo è un incontro del destino quindi qua vi riconoscerete vedete questa persona all'inizio sarà un po incostante però poi dopo ci sarà quest'amore ricambiato abbiamo proprio la carta degli amanti e il re di coppe e quindi qua ci sarà un'attrazione fatale proprio un'unione di anime e di corpi quindi voi ovviamente ci sarà proprio un ricominciare con vedete questo fante di denari proprio un nuovo inizio pieno 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 di promesse ovviamente voi sarete sempre un po come dire caute in questa situazione però farete la vostra scelta con coraggio e qua con il carro che ve lo dico a fare è il 2 di denari che in queste carte ci parlano sia ancora un po di indecisione ma comunque un indecisione però risolta bene perché in questa in questo mazzo di carte ci parla anche questa carta significa anche un innamoramento folle e un modo di viversi l'amore vedete come questi due bambini in maniera giocoso in maniera diciamo come dire come come da bambini ingenuo no in maniera molto così quindi diciamo originale un po da come il primo amore ecco quindi questo è quello che vi succederà in amore nel 2023 quindi ragazze e ragazzi direi una bella veramente una bella stesa andiamo a vedere invece nel lavoro che cosa succederà nel lavoro a tutti coloro che fanno parte del segno del capricorno o ascendente o nella luna o venere vediamo che cosa succederà invece nel lavoro allora vediamo adesso quindi qua abbiamo una torre abbiamo un 9 di bastoni abbiamo il 7 di spade la papessa e il 7 di denari quindi qua voi dopo un periodo un po triste della vostra vita lavorativa avete avuto un progresso avete avuto un intuito un qualcosa di veramente molto molto forte qua viene lo studio l'intuizione la maghetta l'esoterismo può darsi pure che siete diventate donne che fate il lavoro di tarologia perché no pure gli oroscopi perché no qua molto denaro molto denaro un benessere con una nuova attività creativa potrebbe essere anche quella dei tarocchi perché no viene la papessa la papessa è noto che è una donna molto esoterica intuitiva una donna che potrebbe anche diciamo amare queste arti esoteriche ovviamente questa situazione voi l'avete fatta per l'avete questa creatività che avete avuto è stata per sfuggire a un momento di stress di ansie e quindi voi comunque da un fattore diciamo negativo avete come dire così scoperto una vena lavorativa molto creativa e anche di buona retribuzione perché qui abbiamo ottimo lavoro aiuti in denaro e benessere vediamo ancora se questa situazione quindi prosegue nel 2023 e beh certo abbiamo le stelle vedete anzi voi siete prudenti nel evitare qualsiasi cosa che possa in qualche modo come dire intaccare questa attività che voi avete aperto o comunque questa attività creativa che vi siete inventate e qua vedo veramente una grande bella riuscita vediamo un po il fondo massa e il sole ragazze che ve lo dico a fare qui c'è una stesa nel lavoro veramente bellissima veramente veramente bellissima voi farete di tutto per evitare appunto che questa situazione possa andare via nel senso che cercherete di alimentarla con prudenza con saggezza c'è tanta voglia tanta purezza dolcezza nel vostro lavoro avete una speranza con i due i tre supererete tutti gli ostacoli e col tre di denari e il sole che ve lo dico a fare ci sarà proprio la felicità nel lavoro l'armonia e quindi anche la prosperità e il potere in questa situazione quindi anche il lavoro lo vedo molto 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 valido nel 2023 adesso vediamo la fortuna è qualche cosa insomma qualche situazione imprevista che vi potrebbe succedere nel 2023 a voi che fate parte del segno del capricorno o ascendente o portarne appunto in venere o in marte andiamo a vedere che cosa vi accadrà prendiamo anche qui le nostre carte qui abbiamo la chimera abbiamo l'aquila abbiamo il serpente il giullare e la rosa a fondo mazzo abbiamo la carta dello zodiaco allora ragazze e ragazzi a livello di fortuna e di occasioni vedete voi siete scusatemi un attimo allora eccomi qua ragazze io ho ripreso nuovamente il raffreddore guardate non se ne viene fuori da questo virus di raffreddore che circola allora dicevo per quanto riguarda la fortuna io qua vedo che voi siete vedete delle persone che comunque non voi non inseguite ideali troppo elevate ed incerti non è che siete lì a vedere le chimere no 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 voi siete una persona bella concreta perché capricorno un segno di terra quindi un segno ben saldo con la materia no quindi voi qua siete positivi e perché non vi volete creare delle amare disillusioni e fate bene a fare così e avrete delle soddisfazioni anche se comunque le persone come voi vedete suscitano sempre invidia e qualcuno che magari che ne so vi può insidiare o parlare male alle spalle voi siete preoccupati perché percepite che magari che ne so proprio percepite che avete qualche nemico no qualcuno che vi possa navigare contro però non vi preoccupate di questo perché con la carta del giullare proprio la carta dice avrete presso delle ottime notizie che ogni cosa finirà bene quindi voi dovete anche accettare vedete dovrete accettare i consigli che vengono da persone amiche e sagge e poi evitare il vostro orgoglio che potrebbe crearvi degli imbarazzi nei comportamenti la carta dell'acqua vi annuncia grandi onori e soddisfazioni morali dovute al vostro animo che è nobile e generoso è quello lo sapete il capricorno è uno dei segni più leali e generosi dello zodiaco e poi si conclude proprio con la carta dello zodiaco siete di carattere calmo riflessivo e quindi abbiate maggior volontà e fermezza comunque ancora di più di quello che avete e questo vi darà molto vantaggio quindi anche nella fortuna e negli incontri voi siete una persona che non inseguite le chimere siete una persona molto con i piedi per terra quindi più che la fortuna la vostra vera fortuna siete voi stessi che con il vostro animo nobile e con gli amici sinceri che sapete coltivare nel vostro entourage voi riuscirete comunque a superare qualsiasi invidia qualsiasi negatività vi venga comunque in qualche modo intorno quindi che cosa dirvi ragazze e ragazzi veramente una bella stesa un anno meraviglioso allora io voglio prendere non era previsto però voglio farlo voglio prendere le carte degli angeli e vedere un consiglio un qualcosa un avvenimento una sorpresa che ci sarà per voi del segno del capricorno quale sarà questa sorpresa questo consiglio questa cosa inaspettata non lo so qualcosa che gli angeli vi vogliono fare arrivare vediamo cosa quindi pensiamo pensate insieme a me un consiglio un suggerimento oppure un qualcosa di aspettato che dovete vi deve arrivare nel 2023 prendiamo una carta prendiamo questa preoccupazioni inutili quindi non dovete intanto preoccuparvi di nulla tutto andrà bene e poi meditate meditate per trovare la risposta ok quindi se voi avete guardate quasi è liberata la carta storia d'amore quindi qua è qualcosa che è relativo all'amore ripensateci persone disponibili allora guardate questo suggerimento questa novità questa cosa sarà sicuramente per l'amore quindi qua preoccupazioni inutile perché avrete una storia d'amore dovete meditare per trovare la risposta giusta alle vostre preoccupazioni va bene allora segno del capricorno io ho finito spero che vi sia piaciuto il mio video dedicato a voi segno del capricorno segno di terra vediamo qua allora segno di terra stabilità fedeltà lealtà e orgoglio guardatevi bene l'orgoglio le lettere che vi possono essere utili o significative per qualcosa sono la t la o la p la v la z va bene ragazze allora tantissimi tantissimi auguri per un anno meraviglioso a voi tutti del segno del capricorno un bacione enorme dalla vostra zaira ciao ciao